ragazzi incredibile incredibile non riusciamo a dare continuità cioè contro una squadra che per carità è un'ottima realtà a venezia e gioca anche molto bene e ha fermato diverse squadre però questa è una partita da vincere questa è una partita da vincere sono due punti buttati e non ho altri modi per dirlo ci abbiamo buttato via altri due punti ma bisogna veramente guardare con questa squadra bisogna guardare veramente la giornata per una squadra che riesce a battere magari riuscirebbe a battere il bayern monaco 3 a 0 e poi dopo la settimana dopo perde in casa contro gli scappati di casa questa è una partita da vincere in un campo sicuramente insidioso sicuramente contro una squadra ben allenata e ben organizzata però questi erano tre punti da fare soprattutto dopo che sei passato in vantaggio e vi tutta la partita e avuto tante occasioni per chiuderla quella più clamorosa quella di quadrado che in contropiede non ha trovato la porta nel secondo tempo è vero alla fine la cosa che mi fa rabbia che a me la juve è piaciuta anche cioè a me la juve è piaciuta ma davanti davanti il problema io continuo a dirlo il problema non è a centrocampo il problema è davanti perché comunque tu prendi un gol lì va bene sbaglia pellegrini però ha fatto una gran partita pellegrini ma poi basta nel secondo tempo lì la partita puoi anche aver preso gol puoi anche ma ti ti azzeri e ricominci ad attaccare invece arrivi da attacco e i giocatori danno la sensazione nessuno di prendersi responsabilità la buttano in mezzo alla cavolo di cane con bernadeschi che anche sfortunato con romero che ha fatto col palatone e alla fine alla fine ci siamo ridotti inserire sull'e che tra l'altro è tratto anche abbastanza bene poi ha tirato quella punizione la ciofeca vabbè poi vedete quando dite e ma deve giocare caio george caio george è entrato ha fatto schifo ragazzi è stato imbarazzante io non lo condanno perché giovane me lo aspettavo però è quello che è successo il numero io me lo aspettavo caio george è ancora acerbissimo poi dovremmo veramente valutare il discorso di bala è il discorso di bala qualche momento bisognerà metterci da parte ragionare e pensarci perché non è possibile che un giocatore di 28 anni ogni due partite si faccia male allora o lo sta facendo apposta perché ha già un accordo con un altro club e allora non vuole farsi male e allora fa apposta a fare queste cose il che mi deluderebbe in una maniera indecifrabile oppure è fatto di cristallo se è fatto di cristallo io non posso fare affidamento per i prossimi quattro anni su un giocatore così perché è un giocatore ormai muscolarmente se così è muscolarmente finito ragazzi non va bene non va bene cioè non puoi dopo dieci minuti bruciarti un cambio e il giocatore che taglia su poi è vero c'era rosso per il venezia quello che volete però ragazzi questa partita era da portare a casa non sono arrabbiato perché ripeto a me la juve sta piacendo sta piacendo come tipo di gioco a me piace perché tranne col malmo a me oggi è piaciuta non posso dire la juve ha fatto schifo la juve ha fatto schifo in altre partite e con l'empoli ha fatto schifo oggi la juve ha fatto la sua partita secondo me però però dimostri per l'ennesima volta che hai un reparto offensivo scadente non mi riferisco solo a morata ok non diamo di tutte le colpe oggi anche ha fatto un gol però caio george non è l'altezza che che se ne dica entrato ken e non mi non è l'altezza non lo era due anni fa quando mi dicono e ma ken una volta segnava ma non è vero è una una percentuale realizzativa tiri e che comunque era bassissima solo che quella squadra ti tirava in porta 30 volte lui comunque due volte li faceva oggi qua siamo in una situazione veramente critica critica perché la palla non la riusciamo buttare dentro perché la partita come quella di oggi ripeto secondo me è giocata bene secondo me è giocata bene dalla juve deve finire 3 a 0 vuoi prendere il gol perché comunque il gol dell'oro è stato casuale 3 a 1 va bene ma comunque porta a casa 2 a 1 ma porta a casa i tre punti invece lascio due punti a venezia onestamente due punti buttati punto e basta migliore in campo per la juve secondo me io ho dato locatelli pellegrini ma poi dopo visto gli errori che ha fatto dietro metterei dentro direi locatelli però peggiore in campo lo posso dire ancora una volta a alexandro che è entrato e ha fatto solo danni e allora ragazzi qua abbiamo dei problemi che vanno oltre la partita di oggi ragazzi a gennaio io mi auguro che la società intervenga perché penso che dei limiti si siano visti anche oggi questa è una partita che se fosse stato inizio anno l'avrei detto che ci stava comunque trasferta insidiosa ma adesso che bisogno di recuperare punti in campionato questi punti pesano pesano tanto ora a me io che non me ne faccio mai una malattia né della champions né del cioè io vedo la juve se va bene godo come un maiale se va male mi incazzo come una bestia ma poi dopo penso ad altro perché ho la mia vita eccetera però sinceramente questi buttare questi punti ti danno fastidio perché sono punti regalati agli avversari sono punti regalati non tanto a venezia ma a quelle che ti stanno davanti napoli mina inter e via discorrendo che secondo me in questo momento tu potevi affossare sfruttando il tuo filotto tuo filotto non lo sfrutti trovando venezia che sicuramente ha fatto la sua partita però oggettivamente la cosa che ti è mancata a te davanti è stata la qualità cioè per mettere un po di qualità in campo c'è voluto sulle voi mi direte poteva giocare prima sicuramente avrebbe potuto giocare prima ma avresti affossato probabilmente le speranze di caio george perché caio george già questo cambio ha pesato tantissimo poi entrato che è onestamente ragazzi potrà anche star fuori potrà anche star fuori questo fa capire il livello dell'attacco della juve abbiamo siamo giochiamo senza attaccanti e senza attaccanti le partite non si vincono ripeto oggi morata anche segnato non voglio condannare lui prima di tutto però se lui è la punta di diamante a vuol dire che abbiamo un diamante sfasciato e non va bene abbiamo un diamante carbone e quindi niente beh ragazzi due punti buttati ora testa alla prossima per domani video post juventus milan women dal proposito in ambito femminile la buona notizia che gli interessa solo hanno pareggiato quindi veramente la juve deve farla juve domani io vi saluto al penso finisce 2 a 2 finisce 1 a 1 la juve butta via veramente due punti ormai tre punti fatti ne porta a casa solo uno e questa cosa può pesare veramente tantissimo ciao a tutti